queste sono buone assodonna con queste che facciamo ora aspettiamo gli altri vediamo un po chi gioca non gioca nessuno no adesso double belly fa un race da bottone ah no ha fatto solo call ma io li lancio per 5 per 5 ok vediamo se fa call o fold questa potrebbe se gioca fatto no check non regaliamo carte e adesso non sappiamo dov'è però hai sbagliato prima a puntare io ti ho visto che hai cliccato su mezzo piatto e poi però